I valori antichi, le mamme antiche, una delle eccellenze dell'Italia, cara signorina, è le mamme, le mamme che stanno in Italia, non ci stanno in nessuna parte del mondo. Metto una firma, da nessuna parte, le mamme, i sacrifici che... La mamma italiana, mediamente, non batte le mani, ah, le sta scaccolata. La mamma italiana, ecco, due figli, la media, con due figli, è chiamata mediamente al giorno dalle 250 alle 300 volte. Questo qui, a mamme porti, a mamme dai, con una scusa banale, già che stai in piedi. La madre va, non è che sto in piedi, è che non riesco a mettermi a sede. Poi invece il padre, il padre, lo chiami a papà, ma non per cazzo, una volta che lo chiami.